Giamborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, Giorginio e Sarri vanno al Chelsea ho deciso di fare un video insieme, in realtà volevo farne due divisi perché insomma preferivo parlarne abbastanza largamente poi ho detto senti ma sai che c'è faccio un video rapido, stavattina ho già fatto il video grosso nel quale parlavo di Cavani al Napoli e insomma del Napoli ne ho già parlato ampiamente, non buttano dentro tante situazioni, ho detto magari dopo uscirà anche un altro video abbastanza lungo poi ci sarà la finale quindi insomma non buttiamo tanta carne al fuoco, magari lasciamoci delle cose anche per i prossimi giorni e oggi mettiamo un video abbastanza veloce, allora Sarri e Giorginio quindi vanno al Chelsea per una cifra comprensiva di 65 milioni di euro che secondo me ragazzi è una cifra altissima, altissima e il Napoli adesso potrebbe investire quei soldi in modo anche abbastanza intelligente io credo che qui l'affare lo fa il Napoli, è vero che magari Sarri andando al Chelsea ha chiesto esplicitamente a Giorginio ora l'abbiamo detto ieri in radio, o Giorginio è veramente molto molto forte, ma molto forte perché alla fine dei conti l'azzisario è stato pagato 8 milioni quindi se levi gli 8 milioni e 65 te ne rimangono più di 55, te ne rimangono 57 e insomma sono tanti per Giorginio, quindi o Giorginio è veramente molto forte, ma più forte di quello che ci ha fatto in Italia perché comunque era bravo ma non da 57 milioni di euro e lo sa solo Sarri oppure c'ha delle toti nascoste che insomma costa arrivano a nozze perché in realtà a questo punto non vado a capire perché il Chelsea avrebbe dovuto spendere 57 milioni di euro per un giocatore come Giorginio in realtà secondo me l'acquisto ci sta perché poi alla fine ragazzi Giorginio è bravo, se poi è perfetto per il gioco di Sarri allora è tanto giusto che il Chelsea faccia questa offerta, però il Chelsea nemmeno a dire che davanti alla difesa non abbia giocatori perché c'ha Giorginio e vabbè ma poi c'ha Kanté ma poi c'ha Bagaioco, cioè sono tutti i giocatori che tu hai pagato tanto sono tutti i giocatori forti, sono tutti i giocatori che dovrebbero giocare titolari, però non è che poi gioca con sei mediani probabilmente andrà via Kanté, però anche in quel caso poi tu avresti Giorginio e Bagaioco non lo so, cioè nel senso magari tra Kanté e Bagaioco, Bagaioco fa panchina e sta zitto perché comunque davanti c'ha un mostro sacro e va bene così, però qualora dovesse partire Kanté magari direzione Barcellona se ne parla in queste ore e quindi rimanere con Giorginio e con Bagaioco io non so quanto Bagaioco che comunque è un ottimo giocatore sia contento di rimanere a fare panchina a Giorginio fra l'altro questa è proprio l'idea che do al Napoli, ma provare a prendere Bagaioco? cioè nel senso adesso ragazzi Bagaioco è chiuso, è estremamente chiuso, poi staremo a vedere se il Chelsea farà partire Kanté o meno magari davanti ad una grandissima offerta del Barcellona o di un altro big club potrebbe anche decidere di farlo partire però diciamo anche ragazzi che poi andriste a rinforzare una diretta rivale per il futuro quindi insomma perché poi quest'anno il Chelsea non fa la Champions ma nel futuro la farà, lo farà, cioè la farà e quindi non so quanto convenga, a questo punto io non so se il Napoli potrebbe essere interessato a provare a prendere Bagaioco Bagaioco che secondo me è un ottimo giocatore, uno che in futuro potrebbe davvero fare la differenza sulla mediana che potrebbe con esperienza acquisita fare davvero tanto e quindi insomma secondo me per il Napoli potrebbe essere tanta roba comunque sinceramente secondo me qua ci guadagna molto più il Napoli rispetto al Chelsea che alla fine ok prende Sarri anche se il Chelsea è un po' fissato con gli allenatori italiani io avrei evitato sinceramente sì, miglior gioco del mondo e tutto quanto però lo dico sempre ragazzi il miglior gioco del mondo deve essere diciamo completato con dei trofei cioè nel senso il Guardiola ha fatto il miglior gioco del mondo ok e ha portato a casa i trofei cioè tu diventi un grandissimo allenatore quando riesci a fare un grandissimo gioco e allo stesso tempo porti a casa i trofei perché? perché se tu fai un grandissimo gioco e basta puoi allenare magari l'Empoli che viene adesso su e lo salvi puoi allenare la Spal e la salvi puoi allenare il Genoa e arrivi a metà classifica magari arrivi in Europa ma non puoi per pensare di poter vincere dei trofei se poi insomma quello non è il tuo mestiere non lo sai fare ora io non so se Sarri lo sappia fare o meno perché poi è anche vero che in Italia davanti c'è proprio sempre una grande potenza che è la Juventus però va detto anche ragazzi che non è che va a allenare il Bayern Monaco in Germania o il PSG in Francia va a allenare il Chelsea in Inghilterra dove Conte che comunque è Conte ora con tutto il rispetto per Sarri ma è Conte Conte è arrivato quinto l'anno scorso ha vinto anche il campionato e va bene ma comunque non aveva coppe quest'anno il Chelsea ne avrà avrà l'Europa League e saremo poi a vedere come si comporterà Sarri con il triplo impegno perché sappiamo che magari lui le snobba anche ma a Londra non puoi permetterti di snobbarle e soprattutto perché ragazzi perché poi bisognerà vedere Sarri come riuscirà alla lunga ci sono squadre che secondo me sono più attrezzate magari vedi il Manchester City vedi forse anche il Manchester United ci sono squadre che sono più complete vedi il Tottenham che si conoscono da più tempo ci sono squadre che comunque continuano a spendere e a spandere nonostante la squadra quadrada già ce l'hanno vedi il Liverpool che ha fatto una finale di Champions quindi sinceramente e poi anche l'Arsen al che ora si sta ricostruendo post-Wenger quindi sinceramente non so quanto il Chelsea di Sarri possa far bene io essendo italiano gli auguro il meglio cioè gli auguro che vada lì e vinca tutto però sinceramente mi risulta molto difficile pensare che con Sarri il Chelsea possa fare il salto di qualità sinceramente se volevi dar via Conte mi sarebbe aspetto avesse preso uno Zidane per dire che comunque è vero che poi la grande esperienza non l'ha avuta perché ha allenato tre anni però se tu in tre anni ragazzi vinci tre Champions League le chiacchiere stanno a zero poi i campioni magari girano e rigirano eh però i campioni campioni sì però diciamo che alla fine tutte le Champions League le hai vinte quindi gli altri stanno zitti i campioni ce l'ha anche il Barcelloni i campioni ce l'ha anche la Juventus i campioni ce l'ha anche il Bayern Monaco ce l'ha anche il Paris Saint Germain o il Manchester City però alla fine c'è la Champions League che l'ha vinta per tre anni le pila Zidane tra cui un anno subentrato a stagione in corso con Benitez che stava c'entra i danni quindi penso veramente che le chiacchiere stiano a zero comunque diciamo che se dovessi dare un voto al Chelsea io darei 5,5 non mi piace come è mossa troppi soldi per due giocatori cioè per un allenatore e un giocatore che secondo me non sono nemmeno troppo azzeccati per il campionato inglese poi ci sta che Giorginho faccia molto bene ci sta che Sarri faccia molto bene e io me lo auguro ve lo dico me lo auguro perché sono due italiani e quindi gli italiani da me sono sempre amati però di contro va detto anche che forse quei soldi avrebbe potuto spenderli in modo diverso cioè se alla fine tu vai a incassare 60 milioni per cantina e spesi 57 per Giorginho allora secondo me c'è qualcosa che è sbagliato secondo me poi questo è il mio parere al Napoli invece d'ho 8 perché è una cessione che secondo me alla fine è un giocatore che comunque è sostituibile, forte ma sostituibile era insostituibile nel modulo di Sarri a Napoli però è sostituibile se comunque Sarri non c'è più un allenatore che nemmeno era più l'allenatore del Napoli ci ha fatto 65 milioni di euro allora ragazzi qua io penso che tranquillamente oggettivamente il voto che si è postato al Napoli è molto molto alto fammi sapere come sempre un commento qua sotto che ne penso ti invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto un dislike e invece qualora ti avesse fatto cagare ma spiegami il perché lascia il mi piace dei quei altri video di ufficialità iscriviti al canale mi raccomando se ancora non l'hai fatto se ti fa seguimi anche sul mio secondo canale mi chiamo simone sicolfo trattino basso no, mi chiamo simone2 ma che sta a dire allora su instagram mi chiamo simonesicolfo trattino basso official e seguitemi là mi raccomando pubblico due video al giorno inediti sul calcio sul secondo canale non parlo di calcio mi chiamo sicolfo 2.0 quindi ragazzi mi raccomando se volete sentire anche altre mie idee al di là del calcio seguitemi là vi ringrazio come sempre per aver visto questo video buon cialala e noi ci vediamo ad un prossimo video